Per la coppia, per la coppia, per la coppia, sì! Che libro, che libro, che libro straordinario, l'horario ferroviario, l'horario ferroviario. Ci sono dentro tutte le stazioni, tutti i treni, tutti i vagoni, tutte le fermate obbligate. Di ogni treno, ti sa dire... Cosa? A che ora devi partire? A che ora arriverà? Sì, e di dove passerà? 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 Sì, e di dove passerà?